Buongiorno ragazzi, quando smetteremo di dare i soldi alla carta stampata a questi pseudo giornalisti? Ok, adesso anche Scanzi, che dovrebbe essere il fatto quotidiano, parla di libero. Sono tutti lì pur di magnà, cioè tagliano i soldi agli handicappati, tagliano i soldi dappertutto ai pensionati, dappertutto però i soldi per i giornalisti lecchini che devono seguire il solito filo comune di questi politici scappati di casa? Quelli li trovano perché sanno che se non hanno i giornali dietro, vabbè perché ormai i giornali non li legge più nessuno per fortuna, per fortuna questi giornali, che leggere è importante, ma questi giornali non li segue più nessuno e continuano a dargli miliardi e miliardi. Io dico di no, non a mio no. Buongiorno ragazzi, quando smetteremo di dare i soldi alla carta stampata a questi pseudo giornalisti? Ok, adesso anche Scanzi, che dovrebbe essere il fatto quotidiano, parla di libero. Sono tutti lì pur di magnà, cioè tagliano i soldi agli handicappati, tagliano i soldi dappertutto ai pensionati, dappertutto però i soldi per i giornalisti lecchini che devono seguire il solito filo comune di questi politici scappati di casa? Quelli li trovano perché sanno che se non hanno i giornali dietro, vabbè perché ormai i giornali non li legge più nessuno per fortuna, per fortuna questi giornali, perché leggere è importante, ma questi giornali non li segue più nessuno e continuano a dargli miliardi e miliardi. Io dico di no, non a mio no.